Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi mercoledì 12 ottobre 2016. Siamo in diretta alle sette e mezzo e questo è l'appuntamento con l'informazione che apre la giornata di Fano TV. Allora, cominciamo dal santo di oggi, è un santo di casa nostra se vogliamo, è San Serafino da Monte Granaro e il sole è sorto alle sette e diciannove, tramonterà diciotto e trenta. Vediamo il tempo previsto per oggi, dopo la pioggia, la tantissima pioggia che abbiamo visto cadere nei giorni scorsi, in questi ultimi due giorni. Oggi ci attende una giornata di calma, relativa calma, abbiamo un cielo che già si presenta sereno su tutta la nostra costa, c'è ancora qualche nuvola un po' qua e là, però insomma abbiamo una giornata possiamo dire poco di sole. Le temperature, le temperature sono senza variazione di rilievo, chiaramente siamo già a metà ottobre, è piuttosto fresco, i venti al mattino saranno settentrionali di brezza tesa, poi si attenueranno e al pomeriggio arriveranno invece da sud. Domani, giovedì 13 ottobre, eccole qua le previsioni per domani, cielo parzialmente nuvoloso, possibili locali piovaschi nel corso del pomeriggio, le temperature senza variazione di rilievo, i venti sono sudorientali. Venerdì, venerdì ancora cielo parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso, possibili locali piovaschi, da capire un po' meglio dove, come, quando, insomma perché, adesso la grafica non ci aiuta in questo senso, ma possibili locali piovaschi, quindi bisogna vedere un po'. Le temperature sono in lieve aumento. Per quanto riguarda il fine settimana, continuerà ad essere caratterizzato da possibili deboli condizioni di instabilità. Adesso andiamo a leggere i giornali, cominciamo dalla pagina del Corriere Adriatico, la pagina dell'edizione di Pesaro, che oggi in apertura tratta l'argomento della fiera, il caso fiera. Gli eventi sono a rischio. Drudi, il presidente della Camera di Commercio di Pesaro, dice che la partita è da giocare. Campanara, Campanara di Pesaro, il nodo fiera sollevato dagli albergatori non si scioglierà a breve. C'è tutta una partita da giocare con tanti attori e interpreti. Il rogo, quello che c'è stato qualche mese fa, al padiglione, frena le trattative con Bricofer, che era interessata a una parte di questa fiera. Poi a centro pagina c'è la fotografia del Premier Matteo Renzi che incontra della Valle l'imprenditore delle scarpe, l'imprenditore marchigiano, che investe nell'area del terremoto. Qui in questa fotografia lo vedete mentre sta per stringere la mano al presidente della regione delle Marche, Luca Ceriscioli. I 30 comuni della ricostruzione, questo è il titolo, risarcimento del 100% per le aziende della zona del cratere. C'è la protesta di chi invece è escluso da questi risarcimenti. Poi dal Corriere Adriatico, la pagina di Fano, eccola qua, è sull'ospedale. Minardi spinge per Fosso Segliore, forti tensioni nel centro-sinistra. Il gruppo di Facebook, che già conta 10.000 iscritti, parla di scelta peggiore, è la peggiore. E già si parla di danno erariale. L'ospedale unico di Marche Nord è il tallone d'Achile di questa amministrazione comunale e il motivo di tensione tra le varie componenti del centro-sinistra. Scrive Furlani nel suo pezzo di oggi, di Fosso Segliore, confine tra i due comuni costieri, si discute da 5 anni a causa di una scelta sin dall'origine tecnicamente orientata. E' poco trasparente, con iniziative politiche tese a selezionare il versante fanese di proprietà di un grande gruppo industriale di Pesaro, seppur in idoneo, morfologicamente. E poi c'è questo pressing sul sindaco perché eviti la scelta di muraglia, abbandonando la priorità invece di Chiaruccia, sulla quale Massimo Seri ha sempre puntato e ha sempre spinto. Considerate che nei prossimi giorni c'è anche l'incontro con i sindaci, a capo c'è Gambini. L'Istituto Battisti ha perso l'autonomia, meno di 600 gli studenti frequentanti. Dura la protesta in Consiglio regionale di Mirko Carloni, decisione diseducativa, dice patto tradito dalla politica. L'esponente di area popolare ha ricordato l'impegno dei docenti per aumentare le iscrizioni. Sotto invece si parla dell'Isipo. Il Museo Ghetti di Malibu, siamo negli Stati Uniti, vuole dimostrare la buona fede. Nuova udienza in tribunale, mentre l'avvocato che rappresenta le cento città dice che tutti ne conoscevano la provenienza illecita. Quindi è impossibile dimostrare probabilmente la buona fede. Perché tendiamo, dice Tonnini, chiaramente a dimostrare che la buona fede non esiste, dato che tutti sapevano all'epoca che la statua proveniva dall'Italia e che non c'era alcun certificato che ne autorizzasse l'esportazione. Questa è la tesi. La Rocca, siamo sempre sulle pagine di Fano del Corriere, la Rocca Malatestiana rivela i suoi segreti. Durante i lavori sono stati rinvenuti un cunicolo difensivo e un muro dalla funzione ignota. Non si sa cosa servisse. Entro l'anno sarà completata l'uscita di sicurezza, utile ad accogliere mille persone. Pensate, è un monumento, eccolo qua, in tanti probabilmente lo conoscono solo da fuori, tanti non sono nemmeno entrati una volta a vederlo. Eppure, pensate, mille persone può ospitarlo. L'intervento è finanziato con 250 mila euro e consentirà la fruizione di eventi e spettacoli. Poi c'è un riquadro sulla pagina di Fano del Corriere dove il Corriere ricorda che è stata fissata al 27 ottobre prossimo la nuova asta indetta dall'amministrazione comunale per mettere in vendita 14 beni immobili di sua proprietà tra fabbricati e terreni agricoli per un valore complessivo di 3 milioni e qualcosa, e rotti. L'asta verrà replicata in caso di non aggiudicazione al 10 novembre con le stesse modalità e con lo stesso prezzo. Andiamo adesso sull'altra pagina, quella della Valle del Cesano del Corriere Adriatico. Andiamo a Monteporzio dove è stata chiusa la pratica della McCoyle. La McCoyle è un'azienda, una società che cerca giacimenti di petrolio e gas e questa richiesta coinvolgeva 16 comuni a cavallo tra le province di Ancona e Pesaro tra le valli del Cesano e del Metauro, insomma quasi 210 km2. Pubblicato il rigetto dell'istanza, il progetto di ricerca degli idrocarburi nella valli del Cesano riguardava appunto, come dicevo, 210 km2. L'assessore regionale Sciapichetti aveva chiarito l'errore materiale sul sito del Ministero. Residenze al posto della Fornace. A Orciano di Pesaro resterà solamente la ciminiera. Il sindaco annuncia la trasformazione urbanistica che ridisegna anche la viabilità. Quasi terminati i lavori al bocciodromo con l'investimento di 900 mila euro. Una notizia che sempre dal territorio della valli del Cesano, Mondolfo, una notizia che riguarda la religione, Cenacoli, Mariani nelle abitazioni di Mondolfo, l'effigie della Vergine accolta ogni settimana da famiglie, tutti, sta avendo un grande successo di famiglia in famiglia, e tutti possono accogliere nella propria casa la Madonna delle Grotte, prenotandosi, praticamente, telefonando alla segreteria parrocchiale al 95 72 57. Poi, da Senigallia, contromano nella ZTL, nella zona traffico limitato, per gustarsi un aperitivo. Gli accessi spesso degli automobilisti sono accessi abusivi nell'isola pedonale, i residenti sono anche un po' preoccupati, perché poi per andare nella zona ZTL si fanno anche manovre un po' pericolose, insomma, le auto dove meno te le aspetti, in questo caso, dove c'è la ZTL, è difficile poter entrare, devono essere soltanto, solo le auto autorizzate. Insomma, quelle vie sembrano, dice il segretario della Confartigianato, Giacomo Cicconi Massi, dice, quelle vie sembrano un angolo di periferia abbandonata. E, infatti, dice, o si riapre il varco nei periodi morti o si sceglie la pedonalizzazione. Violenza sessuale è un giovane scagionato dalla GIP, la mamma di una diciassettenne lo aveva accusato di stupro, pure il pubblico ministero dice, parla, dice, non ci sono le prove, niente da fare. Apriamo adesso il resto del Carlino. La fotografia, in prima pagina, sull'edizione di Pesaro, è questa. Guardate le armi e il titolo. A spasso con le armi, sempre più soggetti, sorpresi con i coltelli tenuti addosso o nascosti in macchina. All'entrata del tribunale sono state bloccate 34 persone e c'è addirittura chi gira con l'arco. Poi sotto la testata una sola scuola, si parla di edilizia scolastica, una sola scuola antisismica, ha bloccato il cantiere Almorselli, il liceo linguistico, lo vedete nella fotografia, con il cantiere abbandonato ormai da mesi. Gli istituti sono a norma, ma è necessario un piano straordinario. Poi il capo della polizia di Pesaro, locale di Pesaro, agli albergatori si rivolge, per i rumori e gli schiamazzi faremo sopralluogo e sanzioni. Mentre torna da Pergola, la notizia che un ex direttore di banca è tornato dalla Germania, ha trovato la casa ripulita, lui sconsolato dice mi hanno rubato 40 anni di risparmi. Andiamo a vedere la pagina di Fano del resto del Carlino, dove si parla del nuovo regolamento che riguarda soprattutto gli esercenti che hanno i negozi, i bar, soprattutto sulla piazza, che si affacciano sulla piazza. Dunque saranno banditi la plastica e tutti quegli arredi che sono sponsorizzati, tipo le sedie, quelle rosse della Coca-Cola, che insomma in una piazza che tende a una vocazione turistica, bella, importante, come quella di Fano, che piace a tanti, vedere quei tavolini sponsorizzati in effetti non è bello. La rivoluzione dei tavolini è servita, dice, scrive il quotidiano il resto del Carlino. L'amministrazione ha illustrato ieri il nuovo regolamento. Poi ci sono anche altre prescrizioni. Occorrerà privilegiare il metallo tipo bistro francese, di color beige, oppure canna di fucile. Ma ci sono anche altre prescrizioni che sull'articolo di Anna Marchetti questa mattina potrete leggere. Poi soltanto il titolo Paura a Rastat. Rastat è una città tedesca con la quale Fano è gemellata da ormai 30 anni. Scatta l'allarme bomba una settimana fa la città di Rastat era piena di fanesi perché c'era stato un incontro con tanta gente, un centinaio di fanesi che sono andati su per il trentennale. Poi in tribunale c'è un processo a Pesaro che riguarda un fatto accaduto nell'estate del 2014 pestato da sei persone sul lungomare. lui li riconosce su Facebook e poi li denuncia. Un trentenne la vittima è un trentenne aggredito per un banale motivo il giovane si fece strada con la bicicletta tra il gruppo che però non l'ha prese bene. Poi Carnaroli Carnaroli è il nuovo presidente del Corecom il comitato regionale per le comunicazioni e sta iniziando la sua attività è stato nominato da poco e la priorità del Corecom è sia, dice Cesare Carnaroli la lotta al cyberbullismo a quelli che fanno i bulli su internet e quelli che e ne fanno di danni ne fanno davvero tanti forse gli adulti non se ne accorgono ma chi ha dei figli probabilmente già ha sentito parlare di cyberbullismo è un cancro che mina la rete oltre a tutto quello che può causare l'utilizzo non corretto di internet ma il cyberbullismo non va sottovalutato andiamo sulla pagina ultima pagina che prendiamo in esame nella nostra rassegna stampa di questa mattina la pagina 14 di Fano multato al funerale di mia figlia parla il padre della 23enne Carmen Zazzaro che morì dopo aver perso il proprio bambino nel feto nella pancia il feto è stato multato la multa è arrivata in questi giorni e lui si sfoga dicendo è un verbale da 41 euro che gli è stato recapitato adesso stavo facendo il funerale a mia figlia dice Ciro Zazzaro la ferita che ho è aperta ancora di più quello che è accaduto si può riassumere con una sola parola schifezza Andrea negato nel canale la famiglia cerca testimoni si fa strada all'ipotesi di una caduta accidentale oggi intanto l'addio alla 44enne il ferretro partirà alle 9.30 dalla camera mortuale di Fano per raggiungere il Duomo la cattedrale dove il giovane tifoso dell'Alma riceverà l'estremo saluto da parte di parenti e amici e di un'intera comunità colpita da questa tragica fine avvolta ancora in un alone di mistero ci fermiamo qui per quanto riguarda la rassegna stampa vi ringrazio per averci seguito vi auguro una buona giornata e ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia Arrivederci